A margine di una vittoria importante come quella di oggi contro il Pavia è giusto chiamare in causa anche un giovane, ma Fezzol oggi è autore di un'ottima prestazione, veramente una bella partita la tua ma è una buona partita anche da parte della squadra. No, beh, la mia prestazione è frutto del lavoro della squadra, penso che sia stata la squadra, tutti insieme, anche per chi non ha giocato, che ci hanno dato sempre una mano anche dalla panchina, ci siamo aiutati in campo e abbiamo tirato fuori una grande prestazione. Hai dimostrato di essere un buon gruppo, naturalmente anche i nuovi che sono arrivati hanno detto che si trovano molto bello proprio perché è un gruppo che li ha accolti nel migliore dei modi. No, noi siamo un bel gruppo sin dall'inizio della stagione, certo i nuovi li abbiamo accolti secondo me nella maniera migliore facendoli sentire subito parte del gruppo e della squadra, questo ci ha dato una grande mano e spero ce la continui a dare anche per le prossime prestazioni. Per un giovane quanto è importante un campionato di Serie D e quanto è difficile? Sul quanto sia importante devo dire abbastanza, è una bella vetrina per me, l'ho voluto fortemente e spero di fare delle ottime prestazioni. sulla difficoltà a incontri inizia a giocare con gli adulti, è un campionato tosto, duro e che può farti diventare davvero qualcosa di importante. Quale è il vero voto del lentigione? Quello che perde le partite pur giocando bene o quello di oggi che gioca bene e riesce a vincere e battere anche una squadra di alta classifica? No, noi abbiamo un nostro progetto che portiamo avanti continuamente, il nostro modo di giocare non cambierà e ci sono giornate che riusciamo a esprimerlo al meglio e portare a casa dei risultati importanti. All'inizio del campionato siamo stati un po' sfortunati, un po' ci abbiamo messo del nostro ma penso che continuando su questa strada possa andare tutto per il meglio.